Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Finalmente ho avuto un po' di tempo per ritornare sulla serie del grandissimo Kasparov. Siamo nel 1981 e Kasparov sta giocando un torneo molto interessante, un torneo amichevole tra le quattro squadre russe, che sono la nazionale maggiore capitanata da Karpov e con dentro tutti i migliori, la seconda squadra, la squadra delle vecchie glorie e quella dei giovani, con Kasparov come capitano. Sarà tutto amichevole questo torneo perché nessuno voleva sfigurare. Al primo turno Kasparov si trova di fronte il fortissimo teorico delle aperture Oleg Romaniscien e sarà una sfida senza esclusione di colpi. Partiamo! Gary Kasparov apre la partita con D4, Oleg Romaniscien risponde con cavallo in F6, C4, G6, cavallo in C3, con la spinta in D5 entriamo nella Grunfeld. C per D5, il cavallo ricattura, adesso la spinta in E4 di Kasparov conquista il centro con tempo perché sta attaccando il cavallo, il cavallo può anche tornare indietro in B6 ma la continuazione principale è cavallo per cavallo in C3, il pedone B ricattura. Con Alfieri in G7 Romaniscien completa il fianchetto e inizia a mettere ulteriore pressione sulla casa D4 e noi sappiamo che questo è il tema principale di questa struttura. Kasparov continua con cavallo in F3, C5, ancora nuova pressione, il pedone non può neanche avanzare perché è inchiodato sul pedone in C3 e quindi arriva Alfieri in E3. Donna in A5 inchioda il pedone, donna in D2 lo schioda, cavallo in C6. Ora, come dicevamo prima, di nuovo il pedone non può avanzare perché ci sono due attacchi sul pedone in C3 e quindi arriva torre in C1. Nuova protezione del pedone, oltretutto questa torre si toglie dalla pericolosa diagonale dell'alfiera in fianchetto. C per D4, C per D4, cambio delle donne e ora attenzione perché qui non si può riprendere di cavallo perché il cavallo sta proteggendo il pedone centrale attaccato due volte e quindi per non perdere questo pedone centrale Kasparov è costretto a lasciare il re in mezzo alla scacchiera. Quindi le prossime mosse ci diranno se questa linea di apertura che ha scelto il bianco è stata un azzardo oppure no. Intanto Romanisci in gioco a Rocco Corto, ora attenzione perché questa posizione sembra quieta ma non lo è perché se adesso il bianco continua con la naturale, l'alfiera in B5 per esempio, guardate un po' che succede. Dopo l'alfiera in B5 non giocata da Kasparov, il nero continua con F5 e qui questa mossa è forzante perché sciupa sicuramente dalla struttura pedonale perché se il pedone non viene catturato avanza e intrappola e cattura il pezzo. Quindi E per F5 e qui si ricattura di cavallo e il nero in questa linea con il bianco a cui è stata sciupata questa struttura centrale si potrebbe dire anche al nero sì ma questa era la forza della posizione del bianco, questa è una linea che nella pratica favorisce di gran lunga il nero. Quindi ritorniamo a noi, quindi cosa fa Kasparov? Gioca D5, quindi attacca il cavallo, apre anche la linea per l'alfiere, arriva a torre in D8 quindi il nero protegge il cavallo inchiodando il pedone sul re. Allora il re si sposta in E1, naturalmente non in E2 perché sennò bloccherebbe l'alfiere il cavallo sotto attacco anche lui si deve spostare. Quindi si sposta in A5 e controlla questa casa importante C4 e quindi arriva alfiere in G5. Pedone sotto attacco, guardate romanisce in gioco alfiere in F6. Cambiare gli alfieri non da niente al bianco, guardiamo infatti che succede, alfiere per alfiere e qui c'è il cambio di pedone, è vero? Ma poi questo stesso pedone si porterà in F5, mossa forte che sicuramente equalizza la posizione. Quindi Kasparov torna indietro con l'alfiere in D2 e gli ha lasciato almeno questo alfiere in F6 che non è che stia benissimo, oltretutto blocca il pedone in F7. Allora romanisce in gioco a B6 perché ora bisognerà anche lavorare su questo lato di donna, bisogna assolutamente connettere le torri, arriva torre in C7. Questa è una mossa forte, la battaglia è per l'iniziativa e per prendersela Kasparov sta persino lasciando indietro lo sviluppo, ma in una posizione così complessa le regole generali non valgono più, è tutta una questione di calcolo e visione strategica. Ora qui romanisce in commette il primo errore, ma è un errorino, solo che contro Kasparov tutto conta perché in questa posizione questa torre sulla settima non va assolutamente lasciata, il nero dovrebbe giocare torre in D7 ed attaccarla subito e invece arriva alfiere in G4. Il nero ha completato lo sviluppo, ma guardate un po' cosa gioca Kasparov, alfiere in A6. Questo è un grosso problema perché la torre non può più portarsi in C8 e torre in D7 adesso è meno forte, guardiamo un po' che cosa succede, infatti romanisce in una giocata, dopo torre in D7, naturalmente sempre protetta dalla fiera, il cambio torri non risolve il problema della settima perché il re si sposta ed è questa torre che la riconquisterà. Quindi ritorniamo a noi, dopo alfiere in A6 che garantisce anche un futuro controllo di questa settima traversa, romanisce in gioca E6. Mossa più forte, il cavallo salta in G5, F7 sotto attacco e siamo al nostro quizzone. In questa posizione, secondo voi, è giustificato cambiare per bloccare questo attacco l'alfiere sul cavallo? Mettete pure in pausa se volete e da voi la parola. Ritorniamo alla nostra partita perché invece Romaniscien giocherà la mossa migliore, non cambierà l'alfiere sul cavallo, giocherà alfiere in E5. E come mai? Perché questo alfiere in E5 blocca, controllando D6, blocca questo pedone, oltretutto arriva con tempo, ma tanto la torre andrà a catturare. Ritorniamo indietro, guardate che disastro sarebbe successo se il nero avesse cambiato l'alfiere sul cavallo. Alfiere sul cavallo è un errore perché la ricattura arriva con tempo e vincere questo tempo, che cosa farà? Permetterà al bianco di avanzare il pedone, creare un fortissimo pedone passato che vincerà da solo la partita. Quindi, ritorniamo a noi, guardate quante belle idee in queste partite del passato, perché poi, soprattutto quando Kasparov incontra anche dei giocatori quasi al suo livello. Quindi, alfiere in E5, mossa migliore, torre sotto attacco, ma la torre cattura in F7. E per D5, arriva la spinta F4, ora alfiere in G7, ora attenzione perché mossa al bianco, ora è Kasparov che deve stare attento, deve assolutamente giocare una mossa forzante, se no il nero gli gioca H6, attacca il difensore di un pezzo sotto l'attacco, in questo caso del re, e quindi gioca F5. Ora, dopo F5, che è una mossa forte, attenzione perché H6 non funziona più, guardiamo da subito, adesso se il nero gioca H6, cioè torre cattura, il re è costretto a catturare, cavallo in E6 con scacco, si ripiglia il materiale, e oltretutto il bianco sta vincendo. Ritorniamo quindi alla nostra partita, perché dopo F5, Romanisci non giocherà H6, ma giocherà D per 4, quindi è lui che ha creato il pedone passato, e è un pedone passato che farà grossissime minacce, Kasparov gioca alfiere cattura in A5. Mossa migliore, ma prima di giocare questa mossa, bisognava valutare attentamente tante altre soluzioni. Ritorniamo indietro, guardiamo un po' velocemente, per quale motivo F6 non funziona, Sì, sembra fortissima, ma si può sacrificare l'alfiere sul pedone, quando la torre ricattura, arriva E3, che attaccando l'alfiere lo costringe a prendere, torre in D1 con scacco, vince la torre. Allora, ritorniamo a questa cattura, adesso la patata bollente passa in mano a Romanisci, perché trovare la migliore continuazione, la migliore risposta, non è per niente facile. Ora, tutti noi pensiamo, giustamente, alla naturale ricattura immediata del pezzo, ci ha pensato anche Romanisci e l'ha anche giocata, ma non era la continuazione più forte. Andiamo a valutare subito torre in D1 con scacco. Torre in D1 con scacco rimane una delle migliori risposte per il nero, ma il bianco ha sempre delle buone continuazioni, il re si sposta in F2, torre cattura la torre in H1. Ma l'alfiere in C4, che attacca il re a raggi X, è fortissima, infatti il re non si può spostare. Guardiamo che succede, dopo re in H8, veramente arriva F6, e qui si dà matto, intanto si vince materiale decisivo, perché questo alfiere non si può spostare in qualsiasi maniera, perché torre cattura in H7, con l'alfiere che sta controllando G8, diventa scacco matto in 1. Quindi dopo alfiere in C4, torre in C1, che attacca il pezzo che vuol dare lo scacco di scoperta e la mossa più forte, adesso ci sono due continuazioni naturali. Torre cattura in A7, che si riprenderà la qualità con scacco di scoperta, che sembra fortissima, ma incredibilmente porterà ad un finale fatto. Vi lascio l'analisi in descrizione sotto il video. Mossa migliore per il bianco, è alfiere in B3, torre in F8, l'alfiere si porta in D2 attaccando la torre, torre in B1, arriva finalmente a F6. Torre per torre, l'alfiere ricattura con scacco, quindi forte posizione del bianco. Re in F8, si riprende anche l'alfiere con scacco. Il re ricattura, arriva alfiere in B3. Ora, fermiamoci un attimo, anche qui ci sono tre pezzi leggeri contro torre, ma oltretutto qui c'è anche la coppia degli alfieri contro torre e alfiere, e quattro cadrà sicuramente, e questo è un finale piuttosto difficile per il nero. Ma comunque, è tutto ancora in gioco. Ritorniamo a noi, quindi qual era dopo questa cattura la mossa migliore? Il pedoncino che ha fatto il danno era questo? Per prevenire questa spinta F6 che gli ha dato un controgioco terribile? La continuazione migliore era G per F5. E come mai? Perché tanto vedete che il nero riprenderà sicuramente materiale? Perché comunque sulla scacchiera rimangano due minacce. Con il bianco che può fare una sola mossa, o l'alfiere o la torre verranno ripresi dal nero. Quindi questa è la continuazione più forte che eliminando la spinta F6 lascia la partita in totale parità. Quindi non era facile, ritorniamo a noi perché Romaniscini invece riprende questo alfiere e qui arriva, come abbiamo visto nella linea di prima, alfiere in C4, attacco a raggi X sul re nero. Alfiere in C3 arriva con scacco, il re si porta in F2, arriva E3 con scacco. Ancora attenzione perché prendere il pedone vuol dire prendersi anche l'infilata e quindi il re si porta in G3, attaccando l'alfiere, scacco di alfiere in E5, questa volta veramente il re è costretto a catturare, arriva la forchetta di torre, torre in D4 con scacco. Una forchetta importantissima perché elimina proprio il pezzo che a raggi X stava attaccando il re, quindi re in H3, torre cattura in C4. Guardate un po' che succede, F6, Kasparov sta preparando questa rete di matto e guardiamola un po', giochiamo per esempio una mossa neutra. Vediamo un po' se il nero avesse giocato E2, arrivava torre in G7 con scacco, re perché qui naturalmente spostarsi nell'angolo perde subito, cavallo in E6 con scacco, re in E8, torre in E7 e pensate, è già scacco matto. Quindi qui bisogna stare attenti, bisogna stare talmente attenti che Romanisci ne è costretto a sacrificare il suo alfiere sul pedone, alfiere cattura in F6, attacca anche il cavallo, ma qui naturalmente la torre prende il pezzo, quindi Kasparov fa un pezzo di vantaggio e la torre di Romanisci si piazza dietro il pedone passato avanzato. Il pedone passato è l'unico controgioco del nero e quindi arriva torre in E1 ad occupare la casa di promozione, ma il pedone spinge, diventa sempre più pericoloso, bisogna che Kasparov si faccia aiutare dal suo re. Re in G3, torre in A4, guardate un po', Romanisci vuole creare un altro pedone passato, re in F2, torre cattura in A2. Il nero è sempre in partita perché il pedone è protetto e si è creato un nuovo pedone passato e quindi qui bisogna manovrare al meglio tutti i pezzi. Cavallo in E6, guardate che interferenza gli ha fatto Kasparov per guadagnare il pedone, e qui arriva A4. Torre in B1, questo è un grandissimo errore perché Kasparov di nuovo ha visto la possibilità di dare matto, e invece qui bisognava giocare cavallo in D4 e cambiare e togliergli il pedone e quindi pensate, Romanisci è di nuovo in partita. Gioca la mossa migliore A3 perché qui il pedone è passato più avanza e più diventa forte, torre in B7. Il pedone promuove con scacco, questa è soltanto una deviazione, quando il re cattura, la torre si riprende il pezzo e guardate che succede, si porta dalla parte opposta del re, quindi col pedone dalla parte opposta. Qui non solo si minaccia di prendere un altro pedone, ma qui non si possono purtroppo raddoppiare le torri come vorrebbe fare Kasparov per dare matto sulla settima, perché questa cattura arriva pure con scacco, e quindi bisogna giocare torre in G7 con scacco. Il re si porta nell'angolo e torre in F7. Ora qui si vuol giocare torre in F8 che è protetta due volte e quindi Romanisci gioca H5, anche H6 andava bene perché apre in H7 questa via di fuga e il re si porta in F1. Attacca la torre e questo, mossa a 40 anche per il nero, è il momento decisivo della partita, perché c'è soltanto una mossa che salva il nero e non è torre cattura in H2 giocata da Romanisci. Ritorniamo indietro, perché qui bisogna lasciare la torre in presa, bisogna giocare a 2 e naturalmente la torre non si può catturare, il bianco è costretto a catturare in A7, a portarsi dietro il pedone passato, soltanto adesso bisogna giocare torre cattura in H2. Torre cattura in G6 e che succede? Succede che questa è la classica manovra per riprendersi la torre, quindi qui il pedone promuove con scacco, sì, è vero che la torre lo cattura, ma qui c'è la famosa infilata, torre in H1 con scacco, c'è anche l'interposizione e per questo il bianco prima aveva catturato qui in G6, sì, c'è l'interposizione, ma gli è rimasto il cavallo in presa, quindi guardate che succede, torre cattura con scacco, il re ricattura, la torre cattura in E6, ora addirittura il nero è rimasto con un pedone di vantaggio, ma con il re ben posizionato sappiamo che non si vincerà mai, quindi incredibilmente il nero ha trovato la patta. Ritorniamo un attimino in questa posizione, perché che succede adesso se invece il bianco gioca re in G1? Qui basta spostare la torre a distanza di sicurezza, quindi torre di 2, torre C2, va tutto bene, e guardate un po' che cosa sta minacciando, qui sta minacciando scacco addirittura di far donna di vincere la partita, quindi bisognerà proteggere questa prima traversa, non si può catturare il cavallo perché si prende matto in uno, e quindi bisogna di nuovo promuovere la donna. Torre per donna, però stavolta veramente, qui o una o l'altra non c'era più il matto, e quindi veramente se ne va il cavallo, ora qui si pensa che il nero abbia vinto, invece in questo tipo di finale è sempre patta, perché guardate, con torre in B1, sempre con la minaccia di matto, per difendersi da questa minaccia di matto in uno, il nero non potrà sviluppare le torri come vorrebbe, quindi deve tornare indietro a proteggere l'ottava traversa, questo di nuovo gli si porta per raddoppiarsi, re in G8, torre in D1, quindi vuole entrare in D7, torre in F8 non serve a niente, perché qui arriva torre in D che va in D7, e qui, vedete, torre in B8 è sempre patta, quindi non c'è nuda da fare. Ritorniamo a noi, e invece dopo torre cattura in H2, giocata da Romanisci, in veramente il sogno di Kasparov di dare matto, diventa realtà, perché c'è la cattura di torre in G6, torre cattura in E6, e come mai Romanisci non ha giocato a 2, perché adesso a 2 non funziona più, c'è lo scacco in H6, re in G8 è subito matto, controllato e protetto dal cavallo, e quindi per questo motivo lui cattura il cavallo, torre cattura in E6, re in G8. Torre cattura in A7, attenzione che qui si minaccia di dare matto, Romanisci in abbandona, perché l'unico modo per non farsi dare matto, è giocare re in F8, quindi a controllare questa casa E8, ma arriva torre in C6, c'è un'altra minaccia di matto, per non prendere matto come si fa, torre in H1 con scacco, il re è costretto a spostarsi, ma guardate dove si sposterà, si sposterà su una casa che controlla, E1, che sarebbe quella casa data alla torre, per poter rientrare, per fare da scudo a re, quindi continuando a dare scacchi, purtroppo si arriva a un punto, che non riesce addirittura bloccato dal suo stesso pedone, a dare più scacchi, e quindi non si riesce più ad interporre la torre protetta dal re, quindi Romanisci, ce l'aveva visto giusto, ha fatto bene ad abbandonare, ma è stata una partita fantastica, una battaglia feroce tra due giocatori fortissimi in tutto, dall'apertura al medio gioco ai finali, che naturalmente spero che sia piaciuta anche a voi, se vi è piaciuta non scordate di like al video, non scordate di iscrivervi al canale, e naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video, a presto!